Il bello del calcio Il bello del calcio Allora, io prima di arrivare all'ultimo definito ovviamente voglio parlare di un premio teatrale nazionale il Portici in Teatro entro il 15 novembre di questa, quindi tra pochissimo tutte le compagnie teatrali e amatoriali e i monologhisti interessati potranno inviare richieste di partecipazione vi ricordo, Portici in Teatro al premio teatrale portici at gmail.com serata di premiazione il 5 dicembre ripeto, tutti quelli che voressero partecipare al premio possono fare questa cosa pur telefono dal 339 38 97 464 Quella è che comincia, Iva? Inizia quando? Portici in Teatro entro il 15 Quella è che comincia? Entro il 15 Cioè due giorni dopo che ha debuttato Lui però ha faccio le dissonanze magnetiche E non c'è neanche una map Grazie 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 a tutti.